Per un pugno di dollari, il film in questione è un western, che la specialità, finora sembrava dominio assoluto degli americani, non solamente come film, ma anche come musica. Chi è la tua tromba, perché vale la pena conoscere il nome? La tromba è molto brava, è Michele Lacerenza. Michele Lacerenza, dov'è Michele Lacerenza? E là, stagliato come un arcangelo su una nube, ci farà udire la tromba del giudizio e noi andiamo a dare un giudizio sulla tromba. Michele sapeva, Michele sapeva che il regista non voleva, che io lo volevo e fece quel pezzo, quello che sentite ancora, quel suono di tromba così doloroso, era un suono che lui ha prodotto con la sua tromba, con le lacrime agli occhi. Buonasera, in questo bravo, suonerò la tromba e l'ascendenza per me e poi sull'emozione incredibile, lo ringrazio lui. E vamos. Buonasera, in questo bravo.